Benvenuti ragazzi su Playerspace, siamo una partita Playerspace vs Smash U Siamo compagnia di Borgo che mesisterà in questa partita di ESL Italia Serie B Ciao Borgo Ciao a tutti, una partita di un team che si è appena iscritto e ha soltanto giocato un match Quindi non so neanche se sono forti o no Diciamo che sarà una sorpresa, come è stata una sorpresa anche il cambio d'orario repentino Infatti ragazzi, sussate questa live improvvisa ma ci aspettavamo questa partita stasera, non a quest'ora Però ce l'hanno chiesto con urgenza uno spostamento e noi diciamo che li siamo andati incontro, abbiamo accettato Ed è vero che non abbiamo neanche pubblicizzato minimamente la live, dicevi Borgo? Eh adesso opererà sta l'interno di player nel server Eh, lo cremo Io ragazzi nel frattempo sto pubblicizzando sui vari canali social appunto la live Stiamo attendo, vediamo che è entrato solamente Pio per adesso E poi c'è Zio Di loro Andiamo a 8 Ah, il team ragazzi come abbiamo presentato è composto da Pio, Piotta, un game Ehm, 8 Cerny Corazon Ehm, Lampo Blanco Invece il team per quanto riguarda di Smash U in questo momento non l'ho presente Vediamo che è solamente Zio Pant Hearts Grazie per il seguito Ciao Jimmy Just Non sei il nostro Jimmy, vero? Eh, dopo l'ho chiesto Ehm, mi serve sapere un'ottima cosa, Borgo, appena ci sei Scrivi un messaggio in chat così, voglio vedere se me lo visualizzo Perché l'altra volta Twitch mi nette problemi Punto di vista No, perfetto Ciao Shadow World Exodus Exodus, scusami No, ok, la vedo Ah, il TB Ciao TB Ok, dovrebbe funzionare tranquillamente la chat Ok, perfetto Ragazzi, come ho detto Questa partita è slittata la serie B ufficiale, ragazzi Quindi Non conosciamo il team avversario Se vedete che Non va benissimo la live Perché sono C'ho un pochino di FPS Semplicemente che sono Sull'altro schermo Per questo motivo No ragazzi Appunto Ve l'ho appena detto Le FPS da GoTV sono Se non erano limitati Perché vedo che sono Massimo 60 Non va sopra Sì Diciamo che È la È la GoTV Penso, spero Spero che non giochi in queste condizioni, ragazzi Perché sarebbe No, no, no Ecco La GoTV La GoTV Ok, mi conferma Borgo con la GoTV Che ha anche ovviamente 120 secondi di No Di 90 secondi Di 90, sì, 90 Sì, sì Perfetto Quindi non stiamo lì a suggerire Ai nostri player Di andare No Ovviamente Ovviamente Non avrebbe minimamente senso, ragazzi Quindi se vedete che si abbassa Gli FPS Appunto perché non sono Una schermata di gioco E sono Appunto Come avevo detto A Pubblicizzare la live Sui altri social Visto che sarà una live Abbastanza Improvvisata Perché Ci hanno sorpreso Con questo cambio di horario Io sto Tranquillamente pranzando E mi arrivano 20 telefonati Mi hanno detto Eh, vieni su Che Che c'è da streammare No, comunque È un problema tu Se fai 20 FPS No, no Faccio 20 FPS Perché ho un altro schermo Come dicevo Ma 60 Più o meno 70 Un problema è anche 70 Eh, io ne faccio 150 Strano Molto strano E poi Sarebbe meglio Se togliessi il netgraf Lali Da fastidio Come nel netgraf Netgraf Zero A posto A posto ragazzi Allora Allora Non ti ricorda un attimo I comandi Ok Ok Possiamo navigare un po' La app Dai adesso Sembra fluido Sì sì No, molto meglio Ho chiuso un po' Di programmi Che stavo Finisco di pubblicizzare Un po' anche su Instagram Giusto che sia Chiudo un po' Di programmi Appunto Fast Allora Avevo questo problema Di FPS Di ritardo Era un problema Di audio Non so perché Eh capita ragazzi Non è Non è la perfezione Purtroppo Ho dovuto anche Improvvisare Il Purtroppo L'immagine Su Instagram Allora L'ora è Nappe Zio Vantarts Roni Due punti E Ricky Arts Slash Kenyess Sì Vabbè Abbiamo capito un po' Slash Kenyess È un po' Una provocazione Lampo blanco Che è Sì Ovviamente Vediamo Lampo Ok Si è attivato Perfetto È Momentaneamente In classifica Noi siamo Nella decima Posizione Subito dopo I los pollos Quindi Dopo questa partita Che Dovrebbero essere Circa 20 di elo Forse 19 di elo In caso di vittoria Invece ragazzi Delay Conto riguarda La Che ci porteremo Alla Settima posizione Sì Sì Conto riguarda Invece Delay Conto riguarda La stream Sono veramente Sui 5 10 Sondi Sulla live No Invece Per quanto riguarda La gottd Siamo sui 90 secondi Di delay In totale Siamo Preimpostati dal server Esle Così Non possiamo dare suggerimenti Né una squadra Né un'altra Vi invito ragazzi A seguire Appunto Questo canale Twitch Per le prossime Live Conto riguardo Ovviamente Esle Di Player Space E Lasciate appunto Il quadricino Cliccate Così potete Seguirci E vi verrà Direttamente Il messaggio Di notifica Della live Di notifica Niente Un po' di Wormap Così Prima di Iniziare Ci sta Ci sta Dai 9 su 10 Sono ready Eh Inizia Perfetto Ragazzi Allora Andiamo Dalla parte Nostra Ragazzi Vediamo Vediamo Che I nostri Sono andati In A I 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 Hanno sbagliato Loro Cioè Snap round Si Si C'è zio Che scrive Remember Record Eh Perché Devono Registrare La demo Della partita Perché C'è Corazon Che è nato Da solo Perché Stanno andando Uno alla volta Che è successo Ok 2v2 Allora C'è zio Che con altelata Può andarsene Il creatore Che sta facendo Lampone L'ha lasciato Anche Ricky Eh no Vada dietro Oh Attenzione E Rimane lui Con Metà vita C'è Etica Ancora full vita Perfetto Vinco nel knife round Che non vale Come round effettivo Serve soltanto Per decidere Il t side O si t side Ragazzi Sentite bene L'audio Il video Avete problemi Di Qualsettura Vediamo quindi Un Due mid Due B E solamente Corazon Che tiene Il I side Di A In chat Chiedono Perché ci sono Due spettatori Al game La chat Del gioco Allora Vediamo Che stanno andando Pante In Underpass Attenzione Che c'è Hate E c'è Niente Se ne accorgono Tutti Tutti Avversari In Apartment Di B Abbiamo Lampo Blanco Che cerca Di tenere Il side Rushano Attenzione Sono entrati Nel side Lampo Se ne fa Uno Due Attenzione Di hate Le stanno Tappando Lampo 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 Rimasto Solamente Zio In bench Lampo Lampo Tappo Un ottimo Una quadra Di lampo Sì sì Sono Da classifica Lampo Si fa Una quadra Ha saputo Dovrò avvisare Infatti Pio Subito Se ne accorge Lancia granata Li Li ferisce Sono Molto hitati Attenzione Che entrano Da connector E vengono Massacrati Subito I stunt È un round Ico Di pistole Sì sì Ovviamente Ragazzi Più che normale Che è Anche difficile Il loro obiettivo Dovrebbe essere Principalmente Plantare La bomba Per guadagnare Soldi Questo è un Round Ico Dove Gli avversari Avevano soltanto Pistole Kevlar Va tutto bene Marco Perfetto Ti ringrazio Ale Ottimo check Del Del video Audio Di nuovo 8 Mid Corazon Grazie per il Follow Mark Power 96 Cerny E Corazon Di nuovo E loro Continuano Con rush In B Però c'è Lampo Che smocca Entriamo Piano Piano B Da parte Sono tutti Sì Attendo Ovviamente La smoke Giustamente Abbiamo Un bel lampo Con un bello Fucile a pompa Che attende Nei fiori Attende Che entrino Se cercano di sentire Farsi Ovviamente Loro Non si muovono Lampo Non capisce Se ci sono No Li vede Lancia Una player E va a sparare Cerca un interno Nel side Ma viene colpito Se ne fa due Comunque Attenzione Che viene preso Alla dietro Nonostante viene preso Alla dietro Se la fa Se lo aiuta Pio C'è un team killing Da parte di Non l'ho visto bene C'è stato un team killing No 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 E' stato assist Assist No no E' stato un team killing Mi sono stato un team killing Sì da parte loro Da parte loro ovviamente Mi sa che è stato zio A ferire Di uomo ragazzi Le disposizioni Sono sempre le stesse Ma questa volta Loro provano In A Di cui Uno Palace Che serve Punt Questo round si hanno comprato Ragazzi Quindi dovrebbero Vediamo che hanno Tutti quanti AK Tranne Punt Che sta in Palace Con EVP Viene smoccato Viene annunciata una molly Appunto In Palace Per fortuna Perché C'era Punt Con l'EVP Cerni Che si mette in sandwich Oh Pio da dietro Pio da dietro Se ne fa due Non sono riuscito A riprenderlo Oh Ronnie Ok ragazzi Stanno Cambiando E' arrivata la scale C'è Punt Ancora a rampa Che riprova Punt Perché cerca di prendere La bomba Non c'è nessuno Che lo può cercare Quindi penso che andrà B Prende la bomba Sì Prende la bomba Sì ragazzi Come Mi aspettavo Stanno B Infatti 8 Sta già guardando Connector In caso Cambiasse No Cerni HP O diciamo alternative Chiedo una pausa I avversari I avversari Mi ricordo che è un team Che si è appena iscritto Alla serie B Esl Italia Non li conosciamo Ragazzi Non sappiamo Se possano Rivoltare la situazione Abbiamo un Tra l'anno di Ico Comunque vinti Da parte di Playerspace Con un quarto Di full buy Ovviamente Sempre vinto Vediamo che comunque sia Sono in Ico Ma forzano comprando Abbiamo Addirittura Kenny Esco È il doppio beretto Ricciarz Queste si hanno forzato Di fiamma per i Playerspace Te ringrazio Mark Power Invece no Hanno comprato Soltanto una pistola a testa Sì sì Hanno comprato una pistola a testa E neanche l'armor Neanche Kevlar No no niente Solamente Due puntini Che purtroppo Non saprevo come chiamarlo Ha comprato Una Tech 9 È un È il Kevlar È il Kevlar Sì 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 completo Perfetto Come vediamo La classifica è composta Dall'ampo Con una serie di 7 kill Pio 5 Cerni 4 8 3 Corazon è ancora riuscito Diciamo A vedere un nemico Perché è stato sempre E c'è stati 3 rush in B Coraggimi se sbaglio Borgo E Vediamo invece Nella sua avversaria Abbiamo due puntini E punt Che stanno facendo 0 kill Roni È Zio Alla pari Con 2 kill E reiki Una Non sappiamo Come dicevo sempre Cosa Ci possiamo aspettare Da questa partita Vediamo che Ripende la partita Dopo una pausa Sì Ovviamente Spiega che non c'è bisogno Che lo scriviamo Tutti quanti Vediamo che vanno In A In rush A Con più che tiene Short profondo Anche se gli avversari Sono tutti in round Abbiamo un Ah palace 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 Stanno attendendo Stanno attendendo C'è Hit che tiene Mid Abbiamo In 6 di A Abbiamo Corazon E Ceni Sempre Attenzione Che si muovono Corazon li vede Ce ne fa 1 Ce ne fa 2 Hit che l'ha colpito La testa C'è Hit che comunque Si se ne fa un altro E se ne fa il secondo E Ceni si fa l'ultimo Ovviamente È sempre Intato da Corazon Ah è riuscito A tenerli Bene Doma Un po Io pubblicherò Forza Cora Ciao Doma Iscriviti Metti follow Appunto al canale Così Se vorrai seguire altre partite Dove c'è Corazon Appunto i Player Space Appunto a Esle Serie V Italia Potrai Appunto Assistere E avere musicato La prossima partita Appunto ragazzi Vi ricordo Alle 21 e 30 Domenica 24 giugno C'è la prossima partita Che è una partita Molto più importante Penso Perché questo Non che volevo Discriminare Ci smash you Si Perché c'è una partita Contro i Rising Note Orange Mi sbaglio Bordo Si 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 Rising Note Orange Vi ricordo che Per adesso In classifica Era ottavo posto Il Player Space Adesso decimo Si momentaneamente Decimo Perché mancano alcune partite Quindi con questa qua Potrebbe risalire Nella classifica La vittoria Di questa partita Si atreve Fino alla settima Si si Determina la settima posizione Grazie comunque Sia per il follow Ragazzi 8 vede l'arma E so Fà attraverso il muro Giustamente E lampo Oppure Traventamente Wallbang In testa Perché ovviamente L'avevo visto Si accorge Che l'enemy Si è distratto E approfitta Giustamente L'avvoltoio Lampo blanco L'avvoltoio Che si sta facendo Notare molto In questa partita Ragazzi 8 uccisioni 3 assist E una Morte solamente Uno in cui Mi c'è morto più volte Pio Il cambio da Riffler Da VPR Rifler Vediamo Rampe ragazzi Corazon Che si fa Un altro Ma muore Perché è mortato Da Rony Vediamo Comunque sia Che sono clonti armati C'è Cerny Porto anche Tiene il side Smocca male Ah no Smocca bene Smocca bene Palace E ti aiuta Cerny Perché La Attenzione che Vola Un 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 Boccato Farà una Smoc Ramp Rony Non sa Minimamente Cosa fare Perché C'è la smoke Non sa cosa si aspetta C'ha Enemy davanti E a sinistra Oh si fa 8 Si prende 8 Però C'è Pio Pronto Diciamo che Era quasi inevitabile Il destino di Rony Era un po' Cerchiato L'unico cosa da fare Era cambiare Ma la bomba Era già inside Guardate Per la prima kill Il portatore La bomba Era il primo A rushare È stato Era un dico Per Smash Con Deagle E Glock Vanno Tutti Quanti In B Stanno andando Facciamo Un'inquadratura Anche su L'avversario Ovviamente Siamo Lampo Si si Aspetteranno Di prendere La prima kill Lampo Li ha già sentiti Li ho già Pronto Si prova A piccare Lampo Ma Commette errore Perché Li lascia Entrare Ma c'è Pio Sotto Che riesce A tenere Inside Facce Su De kill Forse Se ne fa Una terza No Ovviamente Va 8 In soccorso Pugniamo Palace Perfetto Kill di 8 Con Le Deagle Non ancora Un team Di pub Non è ancora Presente Ricordiamo Tra l'altro Che pub Non ha Una partecipazione Eslitalia Tra l'altro Mi sbaglio C'è Oh Attenzione Full EVP Ragazzi Il team Avversario Ha fatto Full EVP C'è zio Che ha potuto L'EVP Si si Tutti EVP L'ha ripreso 5 EVP Ragazzi 3 Avp Piccano Mid E 1 1 C'è Attenzione Ragazzi Questa Non l'avevo Mai vista 4 Mid EVP E 1 Pica Short Non so Cosa In mente Ma Zio Si Fa Pio Un applauso A Un team Si Ragazzi Una cosa Che sinceramente Non l'avevi Visto Una mossa Veramente Uniceo Ragazzi Inaspettata Comunque Ragazzi Per il team Di pub Di lol Di altri giochi Ragazzi Siamo in cerca Ragazzi Quindi Fatevi trovare Su team Speak Ragazzi E vediamo Com'è Formare Un team Formare Appunto Una squadra Di gioco Per giocare Conti insieme Attenzione C'è Kenny Comunque Cerca di fare Wallbang Ma non lo trova Non sa Cosa fare Attenzione E se ne fa Arriva da jungle Se ne fa uno Adesso Ancora che Aspetta ramp Cioè La bomba La bomba con Hector Quasi entrata Cerny se ne fa L'altro EVP Si fa Due puntini Roni si fa Cerny Questa mossa Un po' Azzardata Cambiare schifo L'AVP Ah Attenzione Si 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 fa 8 Roni Sta arrivando Un ottimo giocatore Senta lampo blanco Ovviamente Corre Rimostrato da solo Adesso Corre Aspetta ramp Che L'ha visto Si va Con la bomba Attenzione C'è la bomba Adesso Riga Si ti Non so Se se lo aspetta Corre intanto Corre via Va Forse Intanto va Parse Si si Prende la bomba Ovviamente L'avversario 3 secondi Ha 2 secondi E non riesce a plantare Non riesce Corre ovviamente Si è andato Non dico a nascondere Ma a mettersi in sicurezza La vittoria Del match Del round Del match Si del round Maggiormente Del round Vediamo Una mossa Un po' Azzardata È molto azzardata Si si È Intrapendente Però Hanno fatto 4 kill Si si 4 kill Rispetto Al 3 round È stato abbastanza Più di scia Come mossa È molto più Adesso tornano B Si si Azzardata Sicuramente Però Si rivelate Qua si è efficace Ovviamente Con la po' Che li ha già sentiti Li ha già sentiti E li sta già Utilities Utilities Granade È per ora Smoke Sembra Si È cercato Pio Smoke Pio si fa una kill Di smontov Di Ricky Ars Vediamo comunque sia Cerca di La wallbang Si si Comunque sia C'è Roni Che è rimasto Con pochi HP Corazon Corazon Se ne fa un altro Attenzione Un punto strategico Va lì in secret Abbiamo Tutti quanti Il team In Tranne Cerni In A Che rimane a controllare C'abbiamo Poi 8 Che è rimasto Comunque sia In mid Jungle Ora Ovviamente Si ferma Nella situazione Di 3 Contro In questo momento Tragico Comunque sia È rimasto Con pochi HP Zio Con 15 HP Non ha Molta scelta Ha molte chance Che O salva O Sì Ma non va Eh attenzione AIDS lo fa in wallbang Con uno shot casuale Mamma mia Attenzione Perché Non l'aveva visto No 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 Non l'aveva visto Al massimo Lo poteva sentire Minimamente Ma Era difficile È quasi imprevedibile Però Diciamo che Se Bisogna sparare Anche In wallbang Spesso Non si può sempre beccare Sì È fortuna Abbiamo Ico Round per Smash U Questa volta Vanno a palace Tre palace Sono due Ancora lo spawn Si muovono Tutti quanti palace Ragazzi Si muovono Tutti quanti in maniera Compatta Non tu capito Non si dividono mai Hanno Attendono molto Pazientano troppo Forse Lampo E più Pensano ancora Che sono in Button utilities In palace Cioè più addirittura Che spara O in wallbang Tentando Di ferire Ma niente Sì sì Spara in nulla Appunto si accorgono Che sono in palace Si fanno cerni Entrano inside Prima a plantare Ma ovviamente C'è Corazzo Che se fa due Tre Quattro Mamma mia Attenzione E quasi ace Di Di Corazon Ma c'è Pante Che cerca di dittare Pio E non se lo fa Pio appunto Non si fa Pio Ma se lo fa Pio Stanno 11-0 Ragazzi Diciamo che Hanno fatto Una mossa Abbastanza Zardata Di Smash U A sfidare Immediatamente Già un team Appena Sono iscritti Quasi Forse è un team Nuovo Ragazzi appunto Non li conosciamo Ezzo Ha fatto la sua smoke Attenzione C'è Pio E 8 Che comunque Vanno a coprire Underpass Eventualmente Anche con una smoke No Cambi idea Abbiamo Smash E Riggi Sono divisi Per la prima volta Penso Con la bomba Si stanno guardando Su che stanno facendo Andiamo a inquadrarli Stanno forse Stanno arrabbiando Tra di loro Più vicino alla morte Due vp C'è lampo blanco Che rischi C'hanno due vp In b Scusami Due vp in b C'è punt Che in cui si sta in mid Che sta pushando mid Sta pushando mid Ma c'è cerni C'è cerni Che sono a prendere Da dietro Adesso lo fa C'è Smash Che sta Da 6 db Da 7 di atti Fa più C'è cerni Che copre A 3 hp zio E li sta andando Da dietro Con la vecchia Da dietro Stanno andando Entrambi A Sono entrambi A Smoke No Flash 2 v2 Stanno in jungle Con l'ampo che tira Una bomba In jungle Si si fa La bomba Ancora non sa Dov'è L'avversario Nonostante Minitato Ha un ottimo riflesso Si gira e spara Con 3 hp Era inevitabile La morte Però Si poteva fare Corazon E' andato molto vicino Se Di precisione Perché Lo poteva prendere In testa L'errore di Di morto Ultimo Morto zio L'errore di zio Eh si Che Si Si Aveva già visto Aveva già visto Aveva visto scendere Aveva anche Cerni che si fa la kill In mid Con le vp 2 kill 2 cerni Underpass Mi sa 1 Sì underpass 1 Se ne accorge cerni Cambia arma con 8 Questo scambio Così al volo Pio ammazza Al volo Terramente 8 Una granata Zio se ne fa 2 Attenzione Si fa cerni E pio Si corregge Corregge la mira Rispetto al round precedente Dunque ragazzi Se potete seguire altre partite Vi ricordo che il 24 giugno Abbiamo Player Space vs Rising Note Orange Alle ore 21 e 30 Delle 24 giugno Quindi Lasciate un follow ragazzi Così Avrete Sicuramente Le notifiche Ovviamente Avrete le notifiche ragazzi E avrete la notifica Tramite email Oltre tramite L'applicazione Twitch Della nostra Live Tornando a noi Tornando a noi ragazzi E questo round Che vediamo 12 a 0 Abbiamo Un vantaggio numerico Dei Smash U Versus Player Space Abbiamo un lampo blanco Che attende Impaziente La kill Il zio che sta per arrivare Perché il zio non lo sa L'ha sentito Perché sento cambiare arma Ricaricare Non si può subbare Si puoi mettere il follow Però adesso Non c'è la subscription Perché non abbiamo Appunto L'appartement Con Attenzione Errone si fa Adesso Abbiamo un appartement Con Twitch Susanna Lampo che sta rotando Lampo sta rotando Riesce a prendere Erronea 9 HP Molto hittato Si ragazzi Purtroppo potete fare Solamente un follow Per adesso Poi quando Cresciamo con i numeri Richiederemo la partner Lampo non l'ha visto Giustamente No no Attenzione che Sto aspettando Eh Vincono il primo round Ragazzi Lampo non l'ha cercato Vincono il primo round Si è avvistato troppo Sul rampa Si è una posizione Un po No È inusuale Però Molto efficace Però Ovviamente Ricky Attenzione Qualcuno è crashato È crashato un player È crashato Puntarts Sì sì Forse è stata l'emozione Ragazzi Evidentemente Parti in pausa Giustamente C'è un crash Del Del giocatore Comunque ragazzi Vi volevo confermare In anticipo Che c'è la nuova Line up Completata Dei player space academy Quindi siamo Quattro De team Che non si iscriveranno Per ovvi motivi All'SRB Quest'anno Ma L'iscrizione Si è rimanata All'anno prossimo Visto che siamo Comunque Verso la fine Non è l'escrizione Non è l'escrizione In Italia Roni fa notare I suoi problemi Di gioco Cioè Non l'ho visto Mi sono perso Non riesco a giocare Sluire Mi chiude Che Ah Ok Abbiamo Roni Un Roni Molto simpaticone Ovviamente Pio ci scherza Non la vedo Come una cosa Molto funny Comunque Comunque Una partita Di Serie B Italia Ma si Ah Attenzione Partono Partono Insinuazioni Che i play space Sono Huck Molto divertente Dopo Fateci vedere Come si fa No Vabbè Ragazzi Anti Sportività No Ma Per me Anti sportività Dai Insinuazioni del genere Se potremmo pure evitare Ma no E' stato Partito tutto Da una battuta Si è partito Da una battuta Ma era voluta Per dire appunto Che fanno uso Di hack I nostri giocatori Comunque si Ma No Era una battuta Che Roni dice Che i suoi shit Non funzionano Eh ma Capito Ma hai visto Zio Che ha scritto Dopo Fateci vedere Come si fa Eh Perché Pio gli ha detto Che loro Li hanno Messi in un modo diverso Appunto Ma così sembra Come se I nostri giocatori Usano Le hack Vabbè Un modo per scherzare Sicuramente Vabbè Sorvoliamo Abbandonato anche Ricky Che succede? Time out Forse Un crash del gioco Ancora Che succede? Non penso Un rage quit Ragazzi Sarebbe Probabilmente Una cosa Molto Molto Brutto Tra l'altro A vedere Comunque Si Mark Powa Siamo Comunque Serba Italia Abbiamo Un livello Comunque Di gioco Abbastanza Elevato Abbiamo Un play space Team Che Si è formato Ragazzi Veramente Da Quasi Una settimana Più o meno Non mi sboglio Si Una settimana Quando si è Annunciato Ha Totalizzato Un Tre vittorie Uno stack Di tre Ragazzi Sull'essere B Appena formata Come team E Si sta facendo valere Si sta facendo vedere Promette molto bene Ragazzi Il nostro team Non perché è nostro Sono rientrati Sono rientrati A posto Potrebbe riprendere la partita Si Riprende Punt, pa Un pace Un pause Vabbè ragazzi Scusate il mio inglese Schifoso Più pure Quindi sono pronti Per riprendere il match E riprende Comunque ragazzi Potrete rivedere questa Live Se avessene persi E volete rivedervela Sia sul nostro canale Twitch Sia Sarà ripubblicata Sui canali youtube Vi lascio il link Ragazzi Nel canale youtube E A questo punto Vi lascio anche L'IP Del team speak Ragazzi Così ragazzi Se volete unirvi E i nostri team Volete formare un altro team Ho cercato appunto Di formare un team Potete chiedere A noi Potete appunto Viene a giocare insieme a noi Poi andiamo un supporto Sia di Mi serve attenzione Riky si fa Cerni Ma non si accorgono di Pio E' vero che Pio se lo fa Pio da dietro Da dietro se lo fa Perché non si è non accorto C'è Pantica Sta aspettando E sa che sta Lampo Ma Lampo non se ne accorge Attenzione Non si è accorto Adesso è una situazione C'è Etti pure Che non sa dov'è Traverse 3 Attenzione C'è Pantica Aspetta Non fa Pio Ovviamente Sapeva già che era presente Lì Pio C'è Roni che sta andando Da dietro Corazon Lo vede Lo spara Abbiamo H che è 1 contro 3 Aspetta Roni che sta per lasciare Aspetta se lo fa Si può fare anche Gli altri Vediamo No Perché sta per Siritato Vediamo Si fa Pantica Non sa dov'è Smash U Frame Inside Smoke Li guarda dietro Attenzione Non sa dov'è No 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 Cosa ha fatto Errore di 8 Prova forse Kinn Invece di fiusare Che non Ovviamente Io Cioè Smash U Che sarebbe Due puntini Aveva smesso di sparare Poteva continuare A difusare C'è il zio Che fa di nuovo Ancora Parra di Hack Finalmente Vanno le Hack Allora Si ragazzi 128 Tic Sono altro Mondo Si MG1 Intendi Con AK Vediamo 4 in mid Uno che torna In T-Spawn Si fa Pio Si fa Punt Pushato C'è Etun Che sta Sono nero Smockato O oggi mi si sbaglio C'è Rimpure Che sta guardando Mid Si è smockato C'è il zio Che sta Pronto Un'altra flash Per Pio C'è Etun Questa Cerca di vedere Se c'è un gap Si fa Infatti Ricky Attenzione C'è il zio Che lo aspetta Si fa Addirittura Pure Roni Attenzione Che si può fare Anche zio Attenzione Attenzione Che ci zio Che lo aspetta Ma c'è Pio pure Pio che si volta E non lo vede Ma allora Se lo fa Hit poi Con Primo alpha Che finisce 13-2 Ragazzi Primo alpha Finisce 13-2 2 round 2 round Abbastanza particolari Di quanto riguarda Smash Bay round Non male Però Vediamo appunto Un team Che Non c'è in campo Ragazzi Tattiche di squadra Molto Molto uguale Per tutto il match Sono iniziati a dividere Giusto da pochi round E Hanno giocato quasi Sempre su un rush Compatto Ma infatti vediamo Che solamente C'è Vediamo Tolgo la classifica Abbiamo Mi sfugge il nome Mi trovo Rony Che prende Solamente uno in B Si tra Se abbiamo Dall'altro side Pio si fa punt Vanno in B No Stavolamente Stavolando in A Hanno fatto una fake Hanno fatto una fake Ragazzi Hanno mandato Pio Da solo In B Per poi Fingere Di plantare in B Com'è L'urker Si sono accorti ovviamente Dalla tattica C'è Rony Che stanno cambiando Rony ti aspetta Pio E se lo fa E infatti Bello Lampo si fa zio E rimasto solamente Rony Rony che arriva da jungle Arriva da jungle Non ti spunto in silenzio Non so dove aspettare C'è 8 Pure che sto aspettando E l'aspetta Se lo fa Bella Bella Deve arrivare ragazzi A 16 Round 20 O 15-15 O 16 No no Si continua In caso di Non c'è un pareggio Si 15-15 Non c'è un pareggio Ovviamente ragazzi C'è un 15-15 Sono due round Poi di supplementari 6 6 Ti scusate ragazzi Il primo che ne vince 4 E ragione Sono due round di scarto Si c'è un round di supplementari Sono 6 di supplementari E si vince con due round di scarto C'è subito Pio e Lampo con una K al secondo round Vediamo Pio e Cerni Che rush in B Entrano Cerni se ne fa uno Attenzione che si fa se ne fa l'altro Se ne fa due C'è Pio C'è Pio che c'è di fronte C'è Zio che sta di dietro Zio si è fatto Pio Ma si fa Cerni se ne fa l'altro Lampo Vediamo che smocca in A Tanto in A Si fa L'altro ragazzo che stava nascosto Che era Due puntini Ovviamente Cerni E Ricky Duello Vince Cerni Ultimo round ragazzi Vediamo Lampo dice No ninja Ricky chiede anche Eh da loro sono tutti Hanno comprato da loro ragazzi Si si Con Cerni che è global Pio su Lampo 5.000 ore Gioca Non mi risulta E Si fa Roni che era in mid A coprire Vediamo che sia un movimento ragazzi Molto tattico Abbiamo 5.000 ore Lampo Che abbiamo da palace Abbiamo Corazon Che è in rampa Va a ricoprire bomba E sono 3 mid Che sono Gli altri ragazzi Pio E E E Lampo Eh E Siete un lampo Certo More Pio Ammazzato da 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 Ma Sono perso E E 3000 K Si si Diciamo che Diciamo che non è novellino E Finito E Finita ragazzi La vittoria di playerspace 16 a 2 16 a 2 ragazzi Sì una partita Una partita Diciamo che era Già Dopo il primo Half Quasi già scritta Ma comunque sia una squadra che mancava Che era l'Ismashiu Che hanno fatto Diciamo le tattiche di squadra Ben poco Ovviamente il miglior in campo 8 Con 22 kill Abbiamo Pio Corazon E C'è nemmeno Sopperso Non Non ho appunto Non sono riuscito a vedere Il Anche lui ha fatto Abbastanza kill Forse Pio di Pio Non erro Beh ragazzi Io Non faccio altro che ricordarvi Della partita Del 24 Giugno Ore 21 e 30 Del playerspace Versus Rising Note Vedete ragazzi Sicuramente una partita Di alto livello Perché abbiamo Rising Note Orange Che è una squadra Comunque Ben Ben posizionata In classifica Ed è una squadra Ovviamente Rising Note Quindi Ci sarà da vedere delle belle O sbaglio Borgo? Sì Sì Sicuramente Anche se Abbiamo già portato Grazie per il follow Ragazzi Grazie Cerni Grazie anche a un altro ragazzo Ma non sono perso E Lampo Blanco Perfetto Grazie ragazzi per il follow Io Vi invito ad andare A Appunto Mettere il follow Seguirci sui nostri social Ragazzi Instagram Facebook Tra l'altro Sotto Nella biografia Del canale E Ragazzi Vi invito anche A passare L'andone speak Perché noi stiamo cercando Altri team Ora ne abbiamo due Già ben formate Abbiamo team Player Space Che avete visto appena giocare Abbiamo un team academy Tanto valdo Quanto Quelli Player Space Che però Dovrà ancora farsi vedere Dovrà ancora farsi notare Ragazzi E Spero di vedervi in tanti Così Vedremo Anche un po' come Organizzarci con altri team Anche per essere di più Ragazzi A giocare in compagnia Grazie per il follow Ragazzi Vi aspetto il 24 Giugno Ore 21 e 30 Per la prossima partita Player Space Versus Rising Note Da Marco Stoxx E Borgo E tutto Ciao ragazzi